Ciao a tutti, buongiorno. Spazio aperto ma semplice terrazzo, sono al di fuori dalla mia abitazione nella speranza che la situazione prima o poi migliori, che muoiano sempre meno italiani e che soprattutto le fake news evitino di rendere ancora più angosciante di quella che è la nostra giornata perché qui ogni secondo sui social o sui siti spunta un parere nuovo e naturalmente si è tutti in balia poi di paura e di apprezzioni. Cerchiamo di essere sereni per quanto possibile e di provare a farci compagnia con il calcio. Oggi più che di mercato volevo parlare con voi, volevo recuperare con voi alcuni retroscena. Magari i giocatori, chi ha cliccato sul video partendo dal titolo, se ne sarà accorto non dal manacco, non da pallone d'oro ma che sono stati comunque protagonisti di momenti importanti, di risvolti importanti della vita interna della squadra. Oggi ci concentriamo sulla stagione 2004-2005 e sulla stagione 2006-2008 perché sono due gli anni di Johan Gorkuf di cui parleremo dopo. Prima parliamo del 2004-2005 di Harvey Delano Esaías. Molti di voi lo ricordano, era un ragazzo promettente delle cantere olandesi, era cresciuto nell'Ajax e aveva conosciuto Claren Zedorf, è un ragazzo del 1974 quindi aveva fatto le giovanili con Claren Zedorf che giovanissimo, lo ricorderete, riuscì a batterci con l'Ajax di Frankie Reikard e di altri campioni nella finale di Vienna del maggio 1995. Ajax-Milan 1-0 con il gol di Kluivert nel finale. In quel contesto, in quel clima cresceva Esaías che fa bene le giovanili tanto che a un certo punto arriva a giocare nel Feyenoord, arriva a giocare nell'Underlecht, riesce ad approdare anche al Real Madrid di segunda, il Real Madrid B, quello di segunda divisione, e poi però torna a perdersi in alcune squadre olandesi, il Kambur, il Dordrecht, insomma una carriera che è sempre stata sul punto di sbocciare e che invece era regredita. Si adatta anche a fare il lavapiatti e torna a incontrare Claren Zedorf. Claren Zedorf aveva questo carisma, questa capacità di affabulare, questa capacità di fare intravedere anche alla società managerialmente, calcisticamente, delle opportunità. e a costo assolutamente zero, praticamente di vitto, alloggio e niente più, Arbi dell'Ano Esaías va a Milanello, nella stagione 2004-2005, a dimagrire sostanzialmente. pesava molto, se riesce a dimagrire, se dimostra volontà nel dimagrire e recupera alcune delle sue doti, delle sue qualità giovanili, può anche essere che possa essere un'alternativa in grado di stare negli ultimi posti della Rosa del Milan a costo assolutamente zero. Esaías ci si mette di buzzo buono, fa il suo esordio nel Milan, nel finale degli ottavi di finale di Coppa Italia. Che cosa succedeva all'epoca? I format erano strani, non sono come quelli di oggi. All'epoca giocavi un ottavo di finale andata di Coppa Italia a novembre a Palermo, è la parita della rinascita di Crespo, e poi giochi il ritorno a gennaio a San Siro. All'andata il Milan vinse 2-1 e appunto ci fu la rinascita di Crespo, al ritorno su 1-0 per il Milan negli ultimi minuti entra Esaías. Esaías, che riceve anche un coro da parte della Curva, era una vicenda che in casa i tifosi interisti e anche qualche collega giornalista interista faceva le battute sul lavapiatti. Perché insomma, d'altronde, alle battute non rinunciano mai anche su uno che è lì a provare a ridare un senso alla propria vita, alla propria carriera. Ma va bene, insomma, ognuno è fatto a suo modo. Esaías, nel dopo partita all'inspogliatoio, piange dall'emozione, piange dalla commozione per esserci riuscito a tornare a giocare pochi minuti in uno stadio vero, nel calcio vero, in un contesto importante. Non ci saranno altre occasioni per lui. E il tema però, perché sapete, queste sono cose, quando arriva Esaías, il Milan ha appena vinto lo Scudetto. È un Milan d'alto bordo, un Milan che, io ricordo subito dopo la finale di Champions League a Manchester, cena di fine stagione con Carlo Ancelotti, e Carlo Ancelotti, proprio al termine di quella cena, mi disse sai che cosa c'è? L'anno prossimo voglio vincere lo Scudetto e l'Intercontinentale. Erano i primi di giugno del 2003, il Milan aveva appena vinto la Champions League a Manchester. L'anno dopo il Milan vince lo Scudetto e sfiorò l'Intercontinentale. Dovette accontentarsi, Carlo, della Supercoppa Europea all'Intercontinentale. Sarebbe arrivata dopo. Quindi quando tu vinci, quando hai appena vinto, va tutto bene. Ma sì, proviamoci, insomma. La squadra, denti stretti, ma senza pensarci nemmeno troppo su, aveva accettato questo tipo di storia, di favola, di esperimento, di tentativo. Ricordo invece quello che accadde nelle settimane dopo la finale per Saistamble, perché la stagione 2004-2005 si conclude per noi il 25 maggio, quella finale da incubo con il Liverpool, e poi la squadra tre giorni dopo gioca a Udine con l'Udinese, partita che finisce 1-1, niente di che, rompete le righe, e poi poco prima del ritiro di luglio c'è una amichevole benefica in Sicilia, a Messina, con ritrovo a Taormina. C'erano diversi giocatori della prima squadra del Milan. E nel pranzo, pre-partita, noi come Milanciane eravamo stati invitati per realizzare uno speciale sul canale, a tavola i giocatori si sfogano, insomma, capisco che alcuni giocatori, senza fare nomi, capisco che la ferita è ancora aperta, del resto la ferita è ancora aperta, il Milan aveva già preso Girardino, aveva già fatto la sua campagna acquisti, e dovevamo solo andare in ritiro. Due problemi grossi emergono in quel pranzo. Crespo, Shevchenko e Esaia, Sedorf. C'era il sospetto dentro la squadra che alcune occasioni da rete nella finale di Istanbul Sheva le avesse sbagliate, perché in apprensione per il fatto che Crespo aveva già segnato due gol. Il rapporto Frangelotti e Sheva, facciamo una premessa, il rapporto Frangelotti e Sheva alla fine Ancelotti un uomo buono, esceva, poi segnava e vinceva, quindi tutto bene, però ricorderete che nel corso del 2002 anno solare, quindi seconda parte della stagione 2001-2002, e prima parte della stagione 2002-2003 Sheva era entrato in crisi, segnava poco, e in qualche caso Ancelotti lo aveva tenuto fuori. Ricordo anche una trasferta, da qui già a inizio 2003, a Reggio Calabria, a Regina Milan 0-0, Shevchenko sperava di entrare, alla fine non entrò, la parita finì 0-0, e ricordo l'espressione, avrebbe detto qualche grandissimo presidente di qualche altra squadra, da coniglio bagnato, da pulcino bagnato, diceva, in aereo al ritorno. Per cui, poi per carità, arriva Manchester, arriva lo scudetto, tutto bene, e Carlo poi era sempre irreprensibile con i suoi giocatori, ancora oggi Carlo vuol molto bene a Sheva, ma se devo dirvi che Carlo andava pazzo, per come era fatto Sheva, e per alcuni comportamenti di Sheva, quindi quando arriva Crespo, e Crespo poi fa due gol al Manchester United, uno all'andata, uno al ritorno negli ottavi di finale di quella Champions, Sheva si infortuna la mandibola, insomma, c'è forse la sensazione che Crespo stia insidiando qualcosa del pregresso di Sheva dentro la squadra, e Sheva sa che Ancelotti e Crespo sono cari amici, sono buoni amici, fin da quando Ancelotti difendeva Hernan dagli attacchi di tutta Parma ai suoi inizi. Tant'è che quell'estate del 2005, dopo la finale di Istanbul, c'è quel, ricorderete, venne ripresa dalle telecamere di Sky, all'ifuori da Milanello, quella discussione fra Ancelotti e Shevchenko sul fatto che Shevchenko voleva rioperarsi subito alla mandibola, perché lui si era fatto male per un intervento falloso di Loria alla mandibola in un Milan-Cagliari 1-0 di febbraio, era riuscito a rientrare per il derby di Champions League di ritorno, quello che vinciamo 2-0 contro l'Inter, per qualificarci poi alla semifinale col PSV in Doven, e lì qualche tensione fra Ancelotti e Sheva c'è, e anche a fine stagione, quando Sheva va direttamente al Presidente e non va alla cena post Parma Milan organizzata da Oscar Basini, Ancelotti ci rimane male. Per cui c'è il tema Ancelotti, Sheva-Crespo. Il tema Crespo lo risolve a noi la società decidendo di puntare su Vieri, quindi Crespo lascia il Milan, però alla squadra non piace l'idea che proprio in una finale si rimanga emotivamente coinvolti come sospettava la squadra, la squadra non era certa, però alcuni sospettavano che emotivamente fosse un po' coinvolto da questa questione di Crespo e di Ancelotti, e quindi non fosse andato ad alcune conclusioni della finale di Istanbul tranquillo, sereno, freddo, come sempre era stato. Quindi c'era quel tema che rimaneva da parte, che poi è stato messo sotto traccia, però dentro il gruppo c'erano alcune questioni che rimanevano aperte, tante che a un certo punto, a metà di quella stagione, verso gennaio dopo alcune sconfitte, ci fu una giornata di team building nei pressi di Novara, a parte tutta la squadra, le avevo chiamate Star Wars, giochi di guerra, noi le riprendemmo con le immagini, ma la cassetta non arrivò mai in redazione, perché erano solo ed esclusivamente a uso interno. C'erano un po' queste questioni, tant'è che poi, nell'estate 2006, Shevchenko va via, è stato un lungo addio quello di Sheva, le prime voci su Abramovich, Chelsea e Sheva arrivarono inviatturati dopo lo scudetto, e Sheva all'inizio della stagione 2002-2003 era sensibile al fascino delle armadite, quindi prima o poi Sheva sarebbe andato via dal Mino. Ed è un tema, diciamo, del luglio 2005, di quel pranzo con la squadra, nel quale poi emerge l'altro problema. E adesso poi, con quello che abbiamo passato, con quello che abbiamo sofferto quest'estate, con la ferita che è ancora sanguina di Istanbul, basta queste cose alla Esaias. Si sfogavano con me alcuni giocatori, ma poi il tema sarebbe stato affrontato anche con la società, tant'è che la società capisce, coglie, perché quello era un Milan che affrontava, era un Milan di grandi personalità, erano tutti cavalli di razza, anche chi giocava poco era un cavallo di razza, era un puro sangue, era un giocatore importante, per cui con 20, 21, 22 personalità dentro la rosa, devi gestire tante cose, e quella società era in grado di gestire al meglio possibile, situazioni complesse, e quindi Esaias, basta. Esaias va a Legnano, va a Leco, basta. Perché, ripeto, quando le cose vanno bene e vinci va bene Esaias, quando le cose non vanno bene succede una situazione come quella di Istanbul, che non è colpa di Esaias. Però poi, nel riprendere, nel fare i conti, la metti a sua volta in mezzo, e quindi la finale di Istanbul fece calare il sipario sulla favola, sull'avventura, sull'esperimento, sul tentativo di Esaias. Stagione 2005-2006, durante l'estate di Calciopoli, il Milan accetta, era una cosa che non capitava spesso con Adriano Galiani a Redo Braida, però il capo degli osservatori del Milan, Cesare Maldini, aveva invitato la società a provarci, e fu un'ottima scelta sul piano tecnico. Il giocatore c'era, Johan Gorkuf c'era, era un ottimo giocatore, aveva ottime noti. Poi però, si sarebbe perso, per strada, per situazioni che adesso andiamo ad analizzare. Johan Gorkuf arriva al Milan nell'estate del 2006. C'era anche il timore che se il Milan fosse stato pesantemente sanzionato, come vedo qualche delirio oggi, ancora sulle vicende di Calciopoli, aveva fatto il Marpione il silenzio stampa dopo Fiorentina-Milan 2-1. Sì, se il Milan doveva fare il silenzio stampa dopo ogni partita sospetta, solo degli avversari, il Milan avrebbe dovuto stare in silenzio due anni, sia per tutto il 2004-2005 e per tutto il 2005-2006. Va bene, andiamo avanti, dai, andiamo avanti senza farci distrarre, andiamo per le nostre cose che sono più importanti, perché anche la vicenda non è celsa, non da pallone d'oro di Johan Gorkuf è più importante di certi deliri. Johan Gorkuf arriva al Milan, si temeva che se Milan fosse stato pesantemente sanzionato poteva partire Kakai, quindi Gorkuf sarebbe stato il suo sostituto. Non fu così, però c'è una partita nella quale Gorkuf fa una grande gara, fa un grande gol, la prima gara di Champions League della stagione 2006-2007, Milan è K-Atene, 3-0 a San Siro, quella sera eravamo convinti, è stato come De Sciglio contro il PSV Eindhoven nel 2013, quel Milan-PSV Eindhoven di De Sciglio sembrava veramente di avere davanti un giocatore che poteva in qualche modo avvicinarsi anche a Paolo Maldini, poi però fu una illusione, Mattia non riuscì a rimanere su quei livelli anche per via degli infortuni. E la sera di Milan è K-Atene, siamo nel settembre 2006, siamo tutti convinti che ci sia un nuovo piccolo Kakà nel Milan. Fece una grande partita, Gorkuf, fece gol, una grande partita, bello, bellissimo. E quindi, e quindi tu ci speri, ci speri, c'è un infortunio, un infortunio, a volte c'era, a volte con Jean-Pierre Merseman, che ricordo ancora con affetto e con piacere, a volte c'erano dei cul-de-sac, delle situazioni in cui, da cui né lui né il giocatore che doveva rientrare in squadra dopo un infortunio non riuscivano a uscire, era accaduto con qualche frizione, anche era accaduto a Inzaghi nelle stagioni precedenti, accade a Gorkuf. Gorkuf però, quando entra nella squadra, quello era un Milan che ti squadrava all'istante, quello era un Milan che in dieci minuti, dentro lo spogliatoio, aveva già capito tutto di te. E avevano capito le diverse anime della squadra, perché c'erano diverse anime in quella squadra, tutte compatte, tutte insieme in campo, ma fuori dal campo, lo ha ricordato spesso Gattuso, da allenatore, io per i miei compagni non è che li amassi tutti e li sposassi tutti, ma in campo davo tutto per loro. E tra Gattuso e Sedorf era un po' così. Sedorf era pazzesco, io ricordo una discussione all'uscita dello spogliatoio di Milanello prima di un allenamento fra Sedorf e Luicosta, intensissima, cazzutissima, dall'uscita dello spogliatoio fino al pallone che era ai margini del campo alto, una discussione incredibile, parlava uno, parlava l'altro, ma non una discussione, una litigata, è proprio una discussione profonda, concetti dell'uno, concetti dell'altro, serratissimi, si erano completamente isolati dal mondo. E quando Gorkyuf entra nella squadra, Gattuso fa di tutto, ha capito che è un ragazzo che ha delle qualità, ma che qualche problema di ambientamento alla lunga avrebbe potuto averlo. tant'è che la parte della squadra che si riconosceva tra virgolette in Gattuso e Gattuso stesso dicevano ma insomma evitiamo di farlo confondere troppo da quanto parla il Pantera, perché nello spogliatoio Sedorf veniva chiamato così, il Pantera. Prendiamolo noi, cerchiamo di capirlo noi questo ragazzo, perché sarebbe un peccato perderlo. e Gorkyuf lo perdemmo. Gorkyuf ricordo che nel novembre del 2006 c'era stata una partita di campionato fra Cagliari e Milan a Cagliari che finì 2-2 con noi che riuscimmo a pareggiare in rimonta e il venerdì sera, perché poi la squadra era partita il sabato per Cagliari, il venerdì sera c'era stato un po' di litigio fra Gorkyuf e la fidanzata, casa mezza allagata, particolari mi li avevano raccontati e onestamente non me li ricordo ma Gorkyuf si aggregò alla squadra all'ultimo. Gorkyuf non ha giocato poco nel Milan, in due stagioni ha fatto 54 presenze, però se devo dirvi che ha mantenuto le premesse di quel Milan e K no. Poi la situazione precipita un po' nell'ottobre del 2007 a Champions League di Atene già vinta, il Milan andò a giocare un amichevole contro l'Atletic di Bilbao, un amichevole durante la sosta del campionato, non c'era Carlo Ancelotti in panchina perché Carlo Ancelotti ha dovuto fare se non ricordo male un'operazione, un braccio, un polso, insomma una cosa molto veloce, in panchina andò a Tassotti. Atletic Bilbao, Milan al San Mames, per noi era una parita di grande tradizione, io mi ricordo bambino da ragazzo mentre ascoltavo quel terribile Atletic Bilbao, Milan 4 a 1 della Coppa UEFA 76-77 e poi quel Milan Atletic Bilbao prima 3 a 0 e poi 3 a 1 del ritorno. Aveva un certo fascino ai miei occhi la partita con l'Atletic Bilbao. Fini 0 a 0, Gorkyv giocò tutti i 90 minuti ma alla fine della parita negli spogliatoi ai giornalisti italiani disse insomma che lui voleva giocare di più e che non era contento, scoppiò il caso Gorkyv tra virgolette che poi si risolse nel 2008 con il suo abbandono del Milan. Perché poi noi ci ritrovammo a pagare il mancato ambientamento di Gorkyv? Perché nel 2008-2009 Gorkyv è in prestito al Bordeaux e fa bene, gioca bene, ha una gran bella stagione tant'è che il primo obiettivo di Leonardo che aveva intuito Leonardo sapeva già da febbraio-marzo che sarebbe stato come minimo. Il nuovo allenatore del Milan al posto di Carlo Acelotti che andava al Chelsea e Leonardo aveva questo chiodo fisso di recuperare Gorkyv di andare a prendere e sapeva, temeva che il Milan non ce l'avrebbe fatta a tenere Kakà dopo anche siamo nelle settimane successive al caso Manchester City e quindi il chiodo fisso del Milan era di andare a riprendere Gorkyv. La prima cosa che fanno a maggio ai primi di giugno Galliani e Leonardo è andare a Bordeaux a convincere Gorkyv niente da fare Gorkyv proprio non si era trovato bene al Milan aveva poi un carattere tutto suo se fosse stato se avesse avuto le stesse caratteristiche tecniche che aveva quelle lì andavano bene ma se fosse stato anche un giocatore solido dal punto di vista mentale il Milan aveva trovato in Gorkyv grazie a Cesare Maldini un giocatore epocale invece proprio lui si perse sul piano della personalità si perse sul piano mentale si perse sul piano psicologico racconti spero di avervi fatto compagnia un caro abbraccio a tutti state in casa grazie a tutti